Anacleto Eh, eh, eh. Fido di Lily Pagabondo. Eh, da che parte è andato? Da che parte è andato? Lui, quel gigante, 8,85 m, no, 87, con un camicio a righe, senza colletto. Quarta imitazione. Abba Tantuono nel film di Fantozzi. Ah, lei è collezionista di mostri. Quello che c'è mostri un po' più piccolo e mostri un po' più lungo. Deve essere stata per lei una grande, bella occasione crescere una famiglia così, ma bravo. Eh, tutti in capale voi. Quando esce il raccordino è Fantozzi, Fantozzi. Ah, sa cosa ho pensato prima, no? Signore, signore, lavorano a Ciccotogno. Ciao ragazzi, alla prossima e spero che vi sia piaciuto.